Ben ritrovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Cesare Martignone. Si registrano code per traffico congestionato. In A11, città Pistoia, Montecatini Terme, in direzione Pisa, coda anche in galleria di 2 km per incidente. In A12, in direzione Rosignano, presso il casello di Rosignano, si registrano code per traffico intenso. In FIPD per lavori tra ginestra fiorentina e la stassigna, nell'arco della giornata, possibili rallentamenti con tendenza all'aumento in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!